Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Sono sicuro che se ci chiedessero di spiegare il significato della parola innovazione, ciascuno di noi istintivamente penserebbe a qualcosa che ha a che fare con la tecnologia. Un'innovazione cos'è? Lo dice la parola, è una cosa nuova, più evoluta, più moderna, più aggiornata rispetto ad una versione precedente o è qualcosa di nuovo. Anzi, se lo vogliamo dire tutta, quando utilizziamo il sostantivo innovazione noi mettiamo subito dopo anche l'aggettivo tecnologica, innovazione tecnologica, le innovazioni tecnologiche. Cioè è come se questa cosa nuova, più aggiornata e più moderna possa esistere soltanto se creata all'interno di un ecosistema tecnologico. Siccome io lavoro in una grande azienda di telecomunicazioni, quando penso alla tecnologia, la prima cosa che mi viene in mente, anche seguendo il dibattito di questi mesi, quest'ultimo anno, mi viene in mente la telefonia cellulare. Allora, siccome tendenzialmente quando si diventa grandi ci si dimentica di ciò che si era quando si era piccoli, io direi, facciamo il riepico delle puntate precedenti. Nel 1982 è nata la telefonia cellulare, il primo GSM. Ah, G sta per generazione. Prima generazione di telefoni. Cosa si faceva con un cellulare nell'82? Si parlava e basta. E se vi ricordate, costava, eh? Mica poco. Dieci anni dopo ci accorgiamo che il telefono sapeva anche scrivere. E nel 1992, con il 2G, nasce l'SMS. Rivoluzione. Pazzesca. Ma qui eravamo ancora all'alba. 2001. 3G. Qui i giochi si fanno seri sul serio, eh? Proprio una roba quando il gioco si fa duro. Video chiamate, MMS, prime rudimentali navigazioni su internet. Molto rudimentali, però, insomma, si iniziava. 4G 2012. Il salto è compiuto. È l'epoca in cui viviamo oggi. Viviamo nei telefonini, no? Film, partite, messaggistica istantanea. Siamo proprio immersi nei nostri cellulari. E domani il 5G. Cosa ci darà il 5G? Beh, sostanzialmente tre cose. Una larghezza di banda maggiore, ossia dieci volte in più la quantità di dati che possiamo scaricare oggi. Una velocità dieci volte maggiore. E una latenza zero. Sapete cos'è la latenza? Lo dico a quelli che hanno i capelli un po' grigi come i miei, anche più grandi i celli. Partite di carcio anni 70-80. Vedevamo il pallone passare da Cabrini a Scirea. Erano le partite intercontinentali. La voce del telefonista arrivava 4 secondi dopo aver visto quell'immagine. Vi ricordate? Quella è la latenza. C'è la differenza tra l'input e l'output. Latenza zero significa simultaneità. Immaginate per la tecnologia di precisione o per la microchirurgia quanto è importante lavorare in simultaneità invece che in latenza. E nel mondo adesso ci sono strizzi di ardi di telefonini, device, di pc, tutti connessi, tutti in velocità, treni, aeri, ponti, gallerie. Non si capirà niente. La tecnologia abilitante di questo mondo meraviglioso è il 5G che abiliterà quella cosa che noi chiamiamo Internet of Things. L'Internet delle cose. E poi non è nient'altro che la possibilità di questi apparecchi elettronici di dialogare tra di loro. Quando si parla di innovazione, tendenzialmente, sapete, chi ha i capelli un po' grigi come i miei, che cosa fa? Manda avanti i più giovani, no? Come i volpi vecchi che mandano quelle giovani ad andare a usare un po' l'aria a vedere se ci sono tagliole. È diffidente, non lo sa usare. I ragazzi invece sono molto più smart di noi. Li utilizzano. E questa tecnologia cosa fa? Inverte un paradigma. Il paradigma dell'apprendimento. Sono i più piccoli che diventano i professori dei più grandi, no? I più giovani che insegnano agli adulti ad utilizzare la tecnologia e i nipoti che prendono per mano i nonni e li aiutano ad attraversare questa strada fatta di chip, di touchscreen, di roba più o meno incomprensibile. Ma siccome l'innovazione è una roba veramente importante, come tutte le cose importanti, si scatenano dispute ideologiche di tutti i tipi, chi la vede in un modo, chi la vede in un altro, ma anche sulla parola stessa. Beh, c'è chi vede l'innovazione con un approccio che si chiama crescita esponenziale. E, per esempio, la telefonia cellulare è il classico esempio. 1G, 2G, 3G sempre cresce. È come un albero da frutte. Io lo pianto nel terreno, voglio rinnaffio, lo fertilizzo, esce l'albero, germoglio, mangio il frutto e mi rimane un seme. Lo ripianto, fertilizzo, germoglio, esce un frutto e all'infinito cresce l'esponenziale. Oppure il secondo approccio, che si chiama innovazione combinatoria. Cioè, ci sono quei pensatori che ritengono che l'innovazione non sia nient'altro che una cosa già disponibile con delle cose esistenti. Per esempio, con i battoncini delle costruzioni. Da solo non è nulla, ne prendo 100 e faccio un'astronave, una casa, eccetera, eccetera. L'esempio più classico per capire questo approccio è l'auto che si guida da sola. 2012, non faccio il nome, ma tutti pensiamo a quella cosa lì. Ma quella di nuovo cosa c'ha? Pensiamoci un attimo, nulla. L'automobile esiste da 120 anni. Il GPS da? Boh, una quarantina? Più o meno. I radiocomandi, basta pensare alle macchinine per i nostri figli, amici, da quanto esistono, da almeno 40, 50 e così via. Ma è l'assemblamento, è la combinazione di quegli elementi che ha determinato un nuovo prodotto. Quindi innovazione combinatoria. Ecco, devo dire, io per oggi devo proporvi un'alternativa e quindi dimenticate tutto quello che vi ho detto sull'innovazione. perché oggi voglio parlarvi di un'innovazione che pone al centro di se stessa il più straordinario elemento che esiste in natura. Questo, l'uomo, che è il nostro antenato, siamo noi, sono quelli che verranno dopo di noi. E mettendo l'uomo al centro di questa cosa che si chiama innovazione, parlando di innovazione in una prospettiva antropologica, cosa significa fare innovazione? Significa cercare il senso delle cose. Perché l'uomo è l'unico animale dotato di quella caratteristica che gli americani chiamano consciousness, consapevolezza. La traduzione non è perfetta, ma rende bene l'idea. La consapevolezza. Siamo gli unici che un giorno sanno purtroppo che dovranno morire. Siamo gli unici animali che compiono le scelte sulla base della logica e della razionalità e non solo assecondando l'istinto. Quindi fare innovazione, se seguiamo questa strada antropologica, significa anche domandarsi cosa può fare un essere umano per produrre un cambiamento in una realtà che si presenta altamente complessa. Un professore dell'Università di Chicago negli anni Ottanta, dal nome impronunciabile, che si chiamava Mikhail Sektenzemihali, propose ai suoi studenti un modello bellissimo. E disse, immaginate che la vostra casa stia bruciando e voi avete solo 30 secondi per prendere un oggetto e portarlo via. Cosa prendete? A parte quelli che hanno lasciato la suocera tra le fiamme, quello che è venuto fuori è che l'oggetto che i ragazzi prendevano e che lui ha raccontato in un libro meraviglioso che si intitulava proprio il senso delle cose, The Meaning of Things, era che non era mai l'oggetto che aveva più valore, ma era l'oggetto che aveva più senso. Non era mai l'oggetto più costoso, era l'oggetto più importante. E allora, se questo è vero, è proprio vero che fare innovazione, quindi fare una scelta che ci porta a un cambiamento, passa attraverso la ricerca di senso. E questo rappresenta un vero salto con il passato. Mi piace questa definizione, perché se pensate, fino a 15 anni fa, nelle grandi organizzazioni, nelle grandi aziende, fino anche negli istituti di ricerca, fare innovazione cosa significava? Stare intorno a un tavolo, 15, 20, 30 persone, più o meno al buio, come in questa sala, si discuteva. Poi a uno veniva un'idea, si accendeva la lampadina, si accendeva la luce, la killer application, quella che ammazza tutte le altre, certo, poi bisognava implementarla, e si produceva e si faceva innovazione. Beh, ma, insomma, oggi è così? Siamo alle porte del 2020 e abbiamo un problema di idee? Cioè, fare innovazione, il tema dell'innovazione ha come questione centrale trovare nuove idee. Siamo inondati di idee. Cioè, di lampadine accese. Ne abbiamo milioni. Basta accendere un telefonino la mattina, la televisione, il giornale, andare su quelle piattaforme promosse dalle stesse aziende che chiedono agli utenti mi aiuti a implementare il mio prodotto. Uff, abbiamo miliardi di idee. Noi abbiamo il problema opposto. Abbiamo il problema di capire qual è la direzione che dobbiamo seguire. Cioè, non c'è un tema di creatività, ma c'è un tema di senso. Dove andare di significato nelle scelte che dobbiamo compiere? Possiamo dire che siamo al buio perché c'è troppa luce, troppe lampadine accese, e non capiamo qual è la direzione giusta. E allora come facciamo a capire questa direzione? Come facciamo a coglierla? E questo vale nelle nostre relazioni personali, professionali, private, in tutti i contesti. Beh, se abbandoniamo lo stereotipo che fare innovazione significhi trovare qualcosa che è fuori di noi. Semmai attraverso l'ausilio di qualche apparecchio elettronico nelle nostre mani che si chiama cellulare o telefono, tablet o quant'altro. Per passare invece al paradigma che a fare la differenza e a introdurre cambiamenti sono gli esseri umani, sono le persone che propongono modelli di novità all'interno di un mondo altamente complesso. Perché è dentro di noi e non fuori di noi che albergano i due più grandi agenti di cambiamento e di innovazione che esistono, il cuore e il cervello. Sono il cuore e il cervello che combinandosi tra di loro danno vita a quell'insieme di sensazioni, di emozioni e di legami complessi che nessun cellulare o computer potranno mai raggiungere. il cervello e il cuore hanno reso l'uomo il luogo dei più grandi cambiamenti. L'uomo, questo essere selvaggio e il nostro antenato, qualche milione di anni fa, migliaia e migliaia di anni fa, che viveva in una caverna, che mangiava il cibo crudo, eravamo noi. Nei tempi della storia, 10.000, 15.000, 20.000 anni significa ieri, eravamo noi, avevamo i nostri stessi geni. E un giorno quest'uomo decide di uscire da quella caverna e si unisce ad un altro uomo, scambiandosi sensazioni ed emozioni e decidendo di dare un pezzo di se stesso agli altri e mette insieme quella cosa che oggi forse chiameremmo famiglia o comunità affettiva e che ieri neanche sapevamo definire. Uscendo da quella caverna e legandosi ad altri uomini, ha creato una palafitta, e poi un villaggio, e poi un paese, e poi una metropole, e poi un aereo, e poi un uomo sulla luna. E così creò l'amore, la più grande innovazione mai inventata, straordinaria. Atto quinto, scena terza, Romeo e Giulietta. Sono al teatro, ci provo, poi mi dite com'è andata. E qui io fisserò il mio sempiterno riposo e scuoterò da questa carne stanca del mondo il gioco delle avverse stelle. Occhi, guardatela per l'ultima volta, braccia, prendete il vostro ultimo abbraccio. E voi labbra, voi, che siete la porta del respiro, suggellate con un leale bacio, un patto con la morte, che tutto capisce. Ragazzi, questa è l'innovazione più straordinaria che c'è e che ci sarà sempre. Adesso non voglio dire che necessariamente lo scambio di sensazioni, sentimenti e di emozioni produca degli effetti positivi. Per esempio, ce n'è uno pessimo, che si chiama matrimonio. Tipicamente dura 50 anni. È fatto di fasi diverse. La prima dura due anni. Straordinaria. Passione, amore, progetti, vita comune. La seconda fase dura 48 anni. E insomma... Vabbè, c'è mia moglie che mi ha guardato male. No, quello che voglio dire è che io non amo i futurologi, quelli che dicono che l'uomo fra 300 anni sarà alto, 2,70 metri volerà sbattendo le mani, eccetera. Perché è un mestiere molto comodo quello del futurologo. Tanto nessuno di noi ci sarà a dirgli guarda, avrei detto una marea di cose che non si tengono. Però sono certo che, diciamo, partendo dall'assunto del vecchio saggio che dice che non ogni cambiamento rappresenta un progresso, ma che ogni progresso passa per un cambiamento, sono assolutamente certo che ci saranno sempre un cuore e un cervello ad indicare all'uomo di domani una strada. Una strada che avrà un senso profondo e che farà sentire tutti noi, già oggi, orgogliosi di essere parte di questa straordinaria comunità che si chiama Umanità.